Ora, il male dunque qual è? Utilizzare la forza del pensare esclusivamente soltanto separata dalla sua origine. Si deve usare anche per il concreto, attenzione. Chi pensa che l'antroposofo diventa una persona astratta non ha capito nulla. È proprio occupandoci dello spirito che si diventa persone concrete nella vita reale. Abbiamo sempre detto che la vita si riempie con la vita, non rifugiandosi nell'aventino esoterico. Però siamo esseri fatti corpo, anima e spirito. Se lo spirito è sempre ignorato, prima o poi anche il corpo e l'anima. Il corpo sa male e l'anima non sa più che pesci prendere. Sostanzialmente si riuniscono i congressi, riunioni, riunioni, si viaggia. A volte sembra che abbiano acquistato un valore in sé tutte queste riunioni al di là del loro scopo. Ora, il male dunque qual è? Utilizzare la forza del pensare...